Abbiamo poca qualità offensiva perché una squadra che segna 61 punti in casa fa fatica a vincere le partite perché significherebbe tenere le squadre avversarie a 56-55 in difesa, cosa che in questo momento non abbiamo ed è una cosa difficile, lo sappiamo benissimo. Sto provando durante la settimana a cercare di tenere sempre un'intensità alta, a cercare di lavorare soprattutto sulla difesa che è l'unica arma che dovremo cercare di migliorare assolutamente visto che l'unico modo per cercare di fare punti in questo momento per noi è quello di causare il campo. Facciamo bene altr'alti, dopodiché arriviamo alla parte finale che crolliamo, iniziamo a sbagliare, ci disuniamo e facciamo fatica. Stasera ho avuto qualcosa a livello di mutaggio a parte di Jovinella, Lorenzo Gerbini, questa è la seconda partita che mi sta dando qualcosa ed è un ragazzo il 2001, però ho poco dagli altri, ho poco dagli altri ma soprattutto come carattere, come cuore che sta avvenendo a Mino, non so i motivi, nel senso che sto cercando di capire però in settimana sembra che va tutto bene perché facciamo delle settimane di lavoro, secondo me, super. Poi, giorno della partita, un'altra volta la paura di sbagliare, la paura di perdere, la paura di... la palla diventa sempre più pesante, c'è questa paura dovuto al fatto che siamo una squadra giovane e quindi ci sta. Dobbiamo cercare di crescere da questo punto di vista, crescere caratterialmente, crescere come intensità questo sta a me durante le settimane a cercare di tirarli su, però oggettivamente si fa un po' fatica crediamo in questi ragazzi e quindi farò di tutto per cercare di farli uscire da questo tepore, da questa paura che loro hanno di giocare, soprattutto appena vanno su e giù, mollano, mollano mentalmente più che fisicamente è bastato un'altra volta, hanno messo le mani addosso, qualche fischio non fischiato, ci nervosiamo iniziamo a mollare di carattere e caliamo, caliamo da altri punti di vista, sia offensivi che difensivi questo è secondo me il problema grosso di questa squadra, però dobbiamo in qualche modo cercare di di, come dire, di tirarli su, da un lato visto che sono giovani e molti dei quali non hanno mai giocato in Serie B quindi per loro ogni partito è un'esperienza in più e gli altri che l'hanno fatta devono cercare di essere un pochino più una guida anziché nervosirsi. Io devo continuare a lavorare sulla difesa, sull'intensità difensiva perché loro ancora non hanno capito come si difende, ancora hanno capito che quando dico di non fare separazione significa che devono stare attaccati all'uomo, non dai di mezzo metro perché mezzo metro anche in Serie B la gente fa canestro, devono imparare a scivolare, a tenere più di un palleggio perché si fanno battere al primo palleggio, si fa un po' di fatica indubbiamente, hai perfettamente ragione sono consapevole di questo e ci sto lavorando tutte e tutte e tutte le settimane, spero che prima o poi esce qualcosa, però purtroppo la difesa secondo me parte anche dalla testa e dal cuore, cosa che in questo momento loro stanno mettendo poco perché giustamente pensano a fare un po' più i fighetti e allora vediamo un attimo di cambiare il modo di allenarli. Io credo, e l'ho detto loro, che meritiamo i fischi, meritiamo che la gente ci dice di andare a casa, meritiamo tutto questo perché dopo cinque settimane penso che sia finita la pazienza da parte di tutti. Le pacche sulle spalle non se ne sia più il caso di riceverle perché adesso il periodo di prova, per non dire il periodo di precambionato dovrebbe essere finito e quindi ora la società, i tifosi, la piazza, tutti si aspettano una reazione da parte di questa squadra. Ho detto a loro che o iniziano a cambiare registro da tutti i punti di vista oppure quale porte sono aperte e vanno a casa. Preferisco far giocare o tenere in campo chi veramente ci tiene e ci sono ragazzi che ci tengono tanto. Qualcuno deve ancora capire ma molti sanno quello che devono fare devono soltanto cercare di farlo uscire fuori. Però ora è giusto che noi ci chiudiamo un attimo in noi uno spogliatoio in mezzo a campo e dobbiamo tanto lavorare, lavorare, lavorare. È l'unica chiave che io conosco per cercare di uscire da questo, chiamiamolo tunnel però, è l'unica chiave. Per una squadra Gio l'unica chiave è allenarli, allenarli, allenarli tutti i santi giorni, tutti i santi giorni. Loro non hanno nessun giorno di riposo, mai. E non devono averlo, non devono averlo. Non devono stare qua, respirare l'aria e il perché tutti i santi giorni. Affari fondamentali, 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 a lavorare sul tiro, a lavorare su tutto. È l'unica arma e chiave che io conosco da questo punto di vista. Poi spero che esca qualcosa in loro, cosa che nelle ultime tre partite non ho visto. È questa cosa che mi dà un po' fastidio, sinceramente.